Ecco a voi la terza parte di come personalizzare i personaggi di Playstation All-Stars Battle Royale. Finora abbiamo fatto Kratos di Good of War e Parappa the Rapper, ma se mi seguite a un'attenzione vi spiegherò come personalizzare Fat Princess, questa principessa grassa, golosa di torte, che vive nel regno di Titania. Dovete selezionare un costume di Fat Princess, all'inizio all'abito reale, e poi si mette il vestito da fiaba, che è molto splendida e dolce. Ma purtroppo i suoi costumi principessa, pirata e ninja, anche quelli sono in Playstation Store come Kratos e Parappa. Dovete acquistare sempre su Playstation Store, mi dispiace. Ora dovete sentire tutte le provocazioni di Fat Princess, che dice, avanti dolcezza, un, due, tre, vittoria. Ti mangerò le gambe! Ora il suo ingresso. Potenziamento, riverenza, mettetemi dove volete. E ora sentite la sua uscita. Dice, urrà, ce l'ho fatta. Che divertente, posso avere il dolce ora? E ricordatevi la sua musica di vittoria, sconfitta a tre strati e un pugno di glassa. Ma la musica l'ho disattivata per parlarvi meglio, così se no quando c'è la musica non riesco a parlare. Ok, io vi devo salutare. Se questa video recensione vi è piaciuta, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Altri video vi aspettano con altri personaggi di Playstation All Stars Battle Royale, tutti da personalizzare. Ma per ora abbiamo fatto Fat Princess.